Siamo con Davide Cazzotti di Renuvo, che cosa ci presenta? Noi siamo qua per presentare il nostro primo prodotto per accelerare il business delle piccole imprese. È un prodotto per i medici, i libri professionisti, si chiama iDoctorPad ed è un prodotto per gestire attività mediche e cartelle cliniche dei pazienti a partire dall'iPad. Poi è uno dei pochi, se non unico, che si integra anche con smartphone e può essere gestito anche dallo staff medico su PC. Quindi permette l'integrazione tramite le tecnologie cloud con strumenti elettromedicali. Quindi importa automaticamente, per esempio, esami clinici, referti per immagini che possono essere consultati e rielaborati direttamente su iPad dal medico specialista.